Ascoltami, ti chiedo di fare come ti dico. Bisogna che tu e il ragazzo andiate via. Protagete il re! Corri. Fuzzi in video! Hai visto tutto ciò che dovevi vedere? Ho visto abbastanza. Perché l'acqua è calata? Perché la spada si è già rivelata? Che forza! Il tuo potere aumenta. E aumentano le forze che a te si opporranno. Il legittimo re verrà. Ed è inevitabile. Fuzzi in video! L'hai sentito? Il potere. Non ho mai avuto il potere. Ho alcun desiderio di conquistarlo. Così tanto trambusto per questo? Tranquillo. Capirai molto presto perché tanto trambusto. Hai paura? Riesco a controllarla. Devi avere paura. Qualunque cosa pur di stanarli. Se cado io, seguite lui. Se cade lui, seguite me. Vuoi che pensi in grande? Dagli qualcosa di grande a cui pensare. Volevate una profezia? Eccovi la profezia. L'uomo che ha estratto la spada dalla roccia. Il vostro... legittimo re. Grazie a tutti. Grazie a tutti